Il nostro destino è segnato. E' una cosa che può in qualche modo darci, tributarci quello che ci meritiamo e cioè la risposta della nostra dignità e questo diventa da noi più che dagli altri che dovrebbero tributarcelo. Noi dobbiamo unirci, dobbiamo unire le nostre forze su questo fronte. Abbiamo creato, alcuni di noi si sono attivati anche in rete, abbiamo creato il Movimento 16G, 16 giugno appunto oggi. A di là che mi sono reso conto in questa fase che mi è toccato organizzare, mi sono reso conto delle spaccature che si sono create per niente, per la difesa di niente, per la difesa di una velleità. E' andata a puntare il rapporto umano addirittura con uomini che invece dovevano avere le palle sotto per essere qua tutti insieme uniti oggi. Perché è stato prodotto uno spazio notevole per stare qua e dovevamo essere molti di più, viva Dio. Ebbene, mettiamo da parte veramente queste cose. Spuniamoci. Io mi sono permesso di darvi lo spunto. Movimento 16G con la pretesa di raccogliere i consensi anche delle altre associazioni già esistenti. Io voglio che anche le altre associazioni esistenti confluiscano nel Movimento 16G, ma non è importante di chi ne sia il leader. Ma non è questo importante, cazzo, lo capite? Quello che è importante è che prendiamo questi figli di zocola. Grazie. Bravo! 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 Bravo!